Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Milan Torino si gioca di venerdì, si gioca davanti a 65.000 spettatori, si supera il milione di presenze nelle partite casalinghe ufficiali di quest'anno a San Siro. Gli applausi dei tifosi milanisti, anche Mike Mignone allo stadio, gli applausi ai tifosi milanisti in memoria delle migliaia di vittime del terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia. Attenzione Sanabria, Ciolo insegue il tiro di Sanabria, la palla sfiora al palo. Teo dentro per Rafa, 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 la deviazione angolo, la grande occasione. Angolo, angolo, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai Rafa, dai Rafa, dai Rafa. Diaz, Diaz, l'imbuccata per Giroud, posizione regolare, Olivier, 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 deviazione, Leao, Leao, para Milinkovic, para Milinkovic, Singo contro Teo, Singo, Singo, il tiro para Tatarusano. In due tempi, va bene Tatarusano, e allora Teoteo, e allora Teoteo, dentro, Leao, 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 Brahim, Brahim, prova a girarsi, Giroud, tiro, parata, linea di porta, si salva il Torino. Grande occasione Milan, niente, non abbiamo energia su nessuna delle cose che facciamo. Grunic allarga per Teo, c'è anche Rafa, Teo va al cross, bella palla, Giroud, gol, ha segnato Olivier, ha segnato Olivier, Olivier, Giroud, Olivier, Giroud, Olivier, Giroud, Olivier, Giroud. Il calcio d'angolo del Torino, via la palla, la palla esce di poco, la palla esce di poco, l'hanno presa loro. Brahim, 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 allunga per Pied, vai Pier che c'è Rafa, vai Pier che c'è Rafa, vai che sei solo, vai che sei solo, vai che sei solo, Teo. Nooo, nooo, Teo sfiora il palo, grande Teo, è finita, abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi, grazie ragazzi. Avete dato l'anima, era così che bisognava tornare a vincere. Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi. Grazie a tutti.